e volevo salutare e ringraziare ovviamente colui che con me ha scritto questa follia che è Luciano Medusa si dice sempre così se lo spettacolo vi è piaciuto ditelo eccetera eccetera se non vi è piaciuto ditelo lo stesso ma se vabbè non si succede se è andato ai sugan urlato ah 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 Bello tanto tanto ила bello tanto I legno di prima ma di se non no Encio Ostia DO CRE viene Escio Yeah Grazie a tutti